Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti crumiri. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero, burro, miele, uova, vanillina e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Finiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Aggiungiamo il burro un pizzico di sale la farina le uova la vanillina e il miele azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 l'impasto è pronto trasferiamolo in una sac a poche abbiamo riempito una sac a poche senza beccuccio con l'impasto abbiamo rivestito con carta da forno una teglia nel frattempo stiamo preriscaldando a 200 gradi il forno adesso iniziamo a formare i biscotti adesso con i rebbi di una forchetta richiamo i biscotti adesso cuociamo a forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti i biscotti crumiri sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli biscotti crumiri grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti